buongiorno a tutti benvenuti ben trovati sono romando pisani sono insegnante di matematica e fisica e in questa raccolta trovate le lezioni del mio corso di fisica che ottenuto presso il liceo classico d'antarighieri di olizia nell'anno scolastico 2015 2016 le lezioni sono rivolte ai ragazzi del quarto del quinto anno e riguardano un po diversi argomenti la teoria della misura e l'attività di laboratorio poi c'è la cinematica la dinamica gravitazione universale e nelle onde con l'acustica e l'ottica la registrazione delle lezioni a suo tempo è avvenuta grazie al software sviluppato dal gruppo del professore rite canessa della science dissemination unit del centro di fisica teolica di trieste il quale va il mio più sentito ringraziamento e spero tanto che le lezioni siano chiare vi siano utili per lo studio e ripasso e se avete domande o dubbi potete scrivermi all'inizio che c'è nella descrizione vi invito a scrivermi al canale e vi auguro buona visione buono studio alla prossima